Stasera il Circolo del Buon Governo di Chivazzo guidato da Emanuele Bava presenta davvero un appuntamento molto interessante nell'ambito del ciclo di eventi cultural-politici della stagione 2010-2011. Questa sera con Oscar Giannino, brillante giornalista ed economista, che parlerà al pubblico Chivazese e non dei tanti temi economici che sono all'ordine del giorno, proprio delle prime pagine di tutti i giornali. Vediamo. Oscar Giannino, questa sera a Chivazzo per parlare alla cittadinanza di economia, dello Stato, delle cose che sembra molto molto complicato in Europa. Per riassumerlo in poco ci vuole capacità e bravura, siamo sicuri che ne sarà capace. No, questo non lo so, anche perché a dire la verità mi sembra che siano in pochi capaci di capire la gravità della situazione che si è aperta in Europa e che da quello che vedo sui mercati persisterà. I mercati hanno capito che la decisione franco-tedesca di confermare questo nuovo meccanismo del 2013-2014 per il salvataggio di eventuali paesi, implica per il mercato iniziare a differenziare il giudizio sul livello di rischio dei titoli di debito pubblico, cioè il mercato sarà fortemente incoraggiato non a tornare come prima della crisi greca e nei mesi successivi a maggio a degli spread contenuti rispetto ai titoli tedeschi, ma a diversificare molto. Lo abbiamo già visto oggi, oggi abbiamo toccato il massimo storico dello spread tra il BTP e il boom tedesco, temo che vedremo di peggio presto. E quindi per l'Italia sporrà un problema, perché o diamo segnali di grande stabilizzazione della nostra finanza pubblica, oppure gli spread che salgono significa che crescerà l'onere sul debito pubblico ed è praticamente l'unico grande vero vantaggio che abbiamo avuto nell'Euro in questi 10 anni. Quindi c'è una prospettiva di fronte a noi in cui se l'Italia appare instabile come politicamente apparirà instabile, il rischio è molto forte. Federico Rampini ha parlato su Repubblica citando Obama, noi ve l'avevamo detto, Obama aveva detto che se non ci fosse stata una grossa spinta verso la spesa pubblica probabilmente non si sarebbe stata questa crisi irlandese, lei si sente di condividere? No, io penso che Obama abbia sbagliato la ricetta a casa sua, che gli americani glielo abbiano già spiegato la lezione al mid-term, la ricetta per uscire dalla crisi non è usare il vecchio Keynes di 70 anni fa, il mondo è cambiato, credere che fare più deficit del debito pubblico per sostenere la domanda andava bene quando l'intermediazione pubblica del reddito era inferiore al 30% del PIL, come negli anni 30. Quando, come nel nostro paese, una miglia di paesi avanzati è superiore al 40%, nel nostro caso al 50% del PIL, fare più debito i mercati ti stangano. Questo Obama credo che inizi a capirlo un po' troppo tardi a casa sua, nel suo partito non lo voglio neanche ricandidare, le prossime presidenziali, quindi prima di dare lezioni e di dire che la via giusta è quella di fare più debito, penso che gli americani gli stiano spiegando che la via è sbagliata. A casa nostra l'essenziale è che chi sui giornali, sui media, nel debattito pubblico, nel debattito politico, pensa a spiegare agli italiani che la via per uscire meglio dalla crisi è quella di fare più deficit del debito pubblico, secondo me è un totale irresponsabile. Un'ultimissima domanda, le ritiene che questa situazione di instabilità dei debiti pubblici delle varie economie europee possa permettere una potenza che la Germania soltanto adesso torna a far sentire la sua voce, di fare shopping dal punto di vista del credito politico all'interno dell'Europa per tornare leader come e prima degli anni 40? No, il paragone non è con gli anni 40, non c'è nessuna egemonia imperiale, non ci sono gli eserci del Terzo Reich, c'è un paese che prima della crisi, negli anni 5 anni prima della crisi, ha fatto due scelte di fondo, molto rigorose, prima scelta di fondo, mettersi in costituzione un limite al deficit pubblico e un limite al perdivo fiscale, sono scesi di 6 punti di PIL, di spesa pubblica e di pressione fiscale, prima della crisi e oggi incamerano il premio, seconda scelta. Negli anni 2002-2003 i grandi gruppi manifatturieri tedeschi hanno chiesto al sindacato volete che delocalizzavano i paesi dell'est qui vicino che sanno lavorare come noi, quindi non in Cina, sanno lavorare come noi la loro maestranza? Oppure volete che per difendere gli insediamenti della manifattura tedesca ci date più lavoro alla stessa paga per qualche anno? Il sindacato tedesco ha detto sì, per questo fatto nei 5 anni prima della crisi la Germania ha guadagnato 18 punti di competitività e 12 punti in meno di costo del lavoro rispetto a noi, 30 punti secchi. Queste due condizioni, rigore pubblico e produttività nella manifattura sono la vera condizione per stare nell'euro in maniera che l'euro sia uno scudo e non una gabbia, chi lo ha fatto come loro lo usa come scudo, chi non lo ha fatto come noi per l'euro, per noi è una gabbia, questa è la differenza. Però io penso che bisogna dire chiare queste cose alla gente, non dire che la colpa è dei cattivi tedeschi, se noi fossimo tedeschi noi ragioneremmo come loro. Questa sera inauguriamo la stagione culturale 2010-2011 con il giornalista ed economista Oscar Giannino, il primo di tre appuntamenti molto importanti, personaggi straordinari che provenienti da settori più diversi, sono leader nei loro rispettivi settori. Questa sera iniziamo con Oscar Giannino, poi giovedì 2 ci sarà Marcello Veneziani, scrittore e giornalista che presenterà il suo libro Amorfati, La vita tra caso e destino, edito da Mondadori, e poi ancora chiuderemo il giorno 13 dicembre con Luca Ricolfi, editorialista della Stampe di Panorama, grande sociologo di fama nazionale e docente universitario che presenterà il suo libro Il saggio, il sacco del nord, il saggio sulla giustizia territoriale. Quindi tre grandi appuntamenti, siamo molto felici anche perché possiamo essere estremamente soddisfatti. Questa sera inizia questa rassegna che offre al pubblico di Chivasso, del territorio, ma di tutto il Piemonte, tre personaggi di primissimo piano, di livello nazionale, quindi di caratura davvero straordinaria, che hanno aderito al nostro invito proprio perché hanno compreso l'importanza e la serietà del progetto culturale della nostra associazione Chivasso. Ci tengo a segnalare che tutte le serate saranno aperte al pubblico, quindi di ingresso libero ci sarà la possibilità di conoscere e dialogare con i personaggi e diventare quindi protagonisti. Veniamo all'argomento di questa sera, giornalista ed economista, quindi l'economia è il piatto del giorno, diciamo a livello anche europeo, viste le crisi anche in Europa, soprattutto a livello finanziario, che ancora vengono a ripercuotersi, nonostante l'inizio della crisi sia andata ormai due anni fa. Questa sera di che cosa si parlerà? Questa sera parleremo con Oscar Giannino di tutti i principali fatti di attualità, di economia, ma anche della situazione politica italiana ed europea. Quindi partiremo dall'analizzare proprio la crisi, parlando di euro debito, di euro crisi, fino ad arrivare ai temi di strettissima attualità, dalle esclusive di Wikileaks fino al recente referendum che si è svolto in questi giorni in Svizzera, senza naturalmente dimenticare la situazione politica italiana, la crisi e il debito pubblico. Devo dire che spazieremo davvero su tutti i temi di più stretta attualità. Ringrazio davvero di cuore Oscar Giannino perché lo abbiamo inseguito per molti mesi, ma alla fine portarlo a Chi Vasso ci consente di portare ancora una volta la cultura con la C maiuscola nella nostra città. Credo che siano davvero occasioni uniche, incredibili per la nostra città e per tutto il territorio.